Numeri imponenti quelli messi in campo per accogliere Papa Francesco domenica. Le strade saranno chiuse alle 5 del mattino, mentre si potrà accedere ai varchi fino alle 7.45. I fedeli di Piazza Duomo potranno accedere da Corso Vittorio Emanuele o dal Terminal, passando per il tunnel. Chi va a Colle Maggio potrà accedere da Via Caldoro o da Corso Vittorio Emanuele. Chi non ha il biglietto potrà assistere comunque al passaggio del Papa in un percorso dalla Piazza a Colle Maggio, accedendo da Via Caldoro, da Porta Napoli, da Via 20 Settembre e dal Corso. Si tratta però di accessi pedonali. Ci saranno 10 parcheggi per 2.700 posti auto con un servizio speciale di navetta. I parcheggi saranno dislocati in vari punti, all'Aquilone, al Globo, al Deposito Ama, Centicolella, Tecnopolo e Piazza Darmi, ma anche zone limitrofe. Ci saranno navette con partenza tra le 5.30 e le 9 dal mattino dell'Aquilone, dalle 9 alle 16, uno ogni 20 minuti sempre dal parcheggio del centro commerciale. Ci saranno posti per diversamente abili, a largo pischetta e in due piani del Terminal. Ovviamente i negozi che si trovano nel perimetro della visita saranno chiusi. Ci saranno bagni chimici e presidi sanitari con 10 ambulanze dislocate, oltre a tutto il dispositivo massiccio di sicurezza, di forze dell'ordine e volontari. La città intanto è già piena di turisti, tantissime le presenze arrivate in città per perdonanza e Papa. Parliamo di circa 12.000 pellegrini come capienza. Sappiamo che ci sono le due divisioni basi di accesso in Piazza Duomo e nei pressi di Colle Maggio, ferma restando poi il dato imponderabile lungo il tratto libero da fine Piazza Duomo fino all'inizio di Colle Maggio. Ma i nostri infopoint ci raccontano un dato strepitoso, secondo me circa 200 accessi di turisti giornalieri. Questo è il motivo per il quale durante questa perdonanza abbiamo pensato di rafforzare il servizio infopoint, prevedendo anche un punto nei pressi del parcheggio del terminal, gli hotel sono pieni, questo è un dato importantissimo. Intanto questa mattina è stata presentata la pubblicazione Papa Francesco Visita l'Aquila, città del perdono, che sarà donata ai cardinali che arriveranno per la visita di Papa Francesco, realizzato in doppia lingua. I testi sono stati curati da Don Carmelo Pagallone Rose del Comitato per Donanza, edito da Michele Maria Biallo. Un libro molto pregevole, che è un dono alle persone che arriveranno in città tra poche ore per la visita di Papa Francesco, ma è anche un modo essenziale, come lo ha definito Don Carmelo Pagallone Rose, che è colui che ha scritto un pezzo importante di questo libro insieme a Massimo Alesi, per far conoscere la figura di Celestino.